Dio nel suo immenso amore per l'uomo quasi non è contento di avere un solo figlio Gesù e quindi ha voluto una schiera immensa di altri figli e Gesù divenire l'uomo per eccellenza il primogenito e nella nell'amore nel vecchio testamento abbiamo tante immagini tante parole chiave che ci fanno capire chi è questo Dio padre la parola chiave principale è Dio è un pastore come ai tempi antichi quanto Israele tutto un popolo di pastori quella del pastore il salmo 23 forma in una forma poetica parla di Yahweh il pastore che ha cura del suo gregge al quale non fa mancare pascoli ubertosi Dio è padre tempo stesso pastore zelante occupato ma è anche padre e vi è l'espressione della sagra scrittura del profeta Oseo molto bello che ci parla di padre e lo fa principalmente attraverso delle delle sottospecificazioni della parola padre il primo gesto io ho preso Efraim e gli ho insegnato a camminare tenendolo per mano Yahweh è un papà affettuoso che si assume l'onere di insegnare al figlio a camminare tenendolo per mano il secondo gesto è quello che oggi viene svolto principalmente dalle mamme ma che forse allora era svolta anche dal papà più premurosi io l'ho imboccato con la mia mano bello questa immagine la mamma che imbocca il figlio e che con quel gesto gli dà la pappetta ma gli dà l'amore il terzo gesto è quello che svolgono i papà felici di poterlo fare di prendere il figlioletto alzarlo in alto e poi metterselo vicino alla guancia ecco i profeti ci fanno ci presentano chi è Dio è questo Dio è un papà è un pastore è una mamma e sì proprio la mamma all'immagine che abbiamo citato possiamo portare la idea della mamma e poi abbiamo l'amore sponsale che viene decantato nel libro Cantico dei Cantici l'amore sponsale Dio che non può vivere senza stare con i figli suoi senza stare con la persona amata Gesù senza stare senza la persona l'uomo in quanto tale e c'è un'espressione del profeta Isaia meravigliosa bellissima che dice io ho scritto nelle mie mani il nome di ognuno di voi cioè ma Dio pensa a noi? è un assurdo perché risponderebbe subito ecco leggete io ti tengo scritto tra le mani noi portiamo Dio porta il mio nome scritto sulla palma della mano e così i nomi di tutti voi non diciamo a Dio questo insulto ma tu ci pensi perché ci porta sempre tra le mani bellissimo questa scena riportata dal profeta Isaia e i santi vedete hanno sempre gridato l'amore non è amato l'amore non è amato anche padre Pio ha sempre gridato l'amore non è amato l'amore non è amato e ha offerto la sua vita affinché tutti gli uomini amassero Dio padre e madre tutto per noi iscriviti al canale